Ciao a tutti, vi aspettiamo il 2 aprile a Marina di Terrara per festeggiare tutti insieme un ITAP che nasce dieci anni fa, un ITAP che rappresenta la storia del Movimento 5 Stelle, un movimento che vuole restituire sovranità al popolo, in un momento in cui i referendum sono tanti e ci aspettano e sono importanti, venite e festeggiamo insieme!